hai fatto benissimo a ricordarmelo bene così diciamo anche a coloro che insomma o meglio diamo la possibilità a coloro che non riusciranno a partecipare oggi di vedere quello che diremo di seguire. Bene allora buongiorno a tutti io vi ringrazio so che siete numerosi io sono Paola Angelucci della fondazione Aspionlus come diceva prima Ciro coordino il progetto per contare e condivido adesso la mia presentazione veloce allora un attimo solo qui che sposto allora abbiamo dato dato a questo breve intervento questo titolo da per contare a per contare pro e proprio per ricordare che per contare continua e continua perché in questi anni sono state realizzate delle risorse e quindi vediamo come questo progetto andrà avanti e prima due veramente due parole sulla fondazione Aspi per cui lavoro e Aspi si occupa di favorire l'inclusione delle persone con disabilità e difficoltà attraverso l'uso delle tecnologie informatiche si occupa di tutti gli ambiti scuola lavoro e vita sociale e io mi occupo in particolare della scuola nell'ambito proprio delle iniziative per la scuola è nato il progetto per contare ci siamo sempre occupati dei bambini con difficoltà di apprendimento e in modo particolare nel 2010 iniziarono gli insegnanti insomma ci fecero tante domande rispetto a risorse nuove risorse per aiutarli proprio nella gestione insomma nell'impostazione didattica per aiutare i bambini che avevano delle difficoltà di apprendimento e così nasce il progetto per contare che ha avuto proprio questo obiettivo di mettere a punto buone pratiche didattiche inclusive per accompagnare i bambini della primaria nell'apprendimento della matematica e così dal 2011 a 2022 abbiamo realizzato come vedete sono passati tanti anni proprio queste risorse che sono guide didattiche che trovate sul sito www.percontare.it è solamente una breve informazione per chi non ci conosce ma so che la maggior parte insomma delle persone collegate conoscono le risorse di per contare qui proprio molto in modo molto sintetico trovate gli argomenti insomma l'indice una parte dell'indice generale che riporta tutto quello che è stato realizzato almeno nel nei titoli e quindi nelle guide cosa trovate non solo le proposte didattiche ma trovate anche tutti i software barra applicazioni web quindi sono applicazioni che possono essere utilizzati sia sui pc sia sui dispositivi mobili di supporto alla didattica eh trovate anche mh tanti tanti riferimenti video su come costruire gli artefatti insieme eh in classe proprio insieme ai bambini e tante altre risorse approfondimenti di referenti scientifici e così via ehm in questi anni abbiamo lavorato con in momenti diversi in anni diversi inizialmente con l'università di Modena e Reggio poi con l'università di Pisa e le tutto quello che è stato realizzato è stato sostenuto dalla compagnia di San Paolo e dalla fondazione per la scuola della compagnia di San Paolo nel 2023 partiamo con un nuovo progetto eh il progetto per contare pro per contare pro sta per propagazione noi quindi abbiamo detto che le risorse sono state realizzate è sempre tutto disponibile gratuito attraverso il sito e per contare pro guarda proprio ad attività formative per favorire un uso sempre più diffuso e ehm diciamo così anche appropriato di quelle che sono le risorse le proposte didattiche che trovate ehm che trovate nelle guide ehm e quindi questo progetto avrà una durata di tre anni da 2023 a 2026 quindi siamo proprio appena partiti e prevede in particolare due azioni due azioni un'azione rivolta al territorio nazionale con ehm una serie di webinar in tutto otto ehm come oggi quindi webinar quello di oggi tra l'altro è il primo eh di questo di questo ciclo e quindi un'azione rivolta a tutti i docenti interessati alle guide e ai materiali di per contare ad approfondire quello che è stato pubblicato poi abbiamo una seconda azione che noi la chiamiamo un'azione che guarda sia la formazione ma con effetto moltiplicatore perché perché questa questa azione punta a formare un gruppo di un primo gruppo di di docenti di di tredici regioni che a loro volta quando saranno formati potranno essere di supporto e formare altri docenti del territorio nazionale quindi ehm il nostro obiettivo è da qui a tre anni poter vi dare insomma anche un elenco di ehm di persone da poter contattare per approfondimenti anche per attività formative e laboratoriali presso le vostre scuole perché siamo partiti con questa iniziativa perché ehm perché tante sono le richieste pur essendoci tutte le proposte didattiche dettagliate con il video insomma tutto quello che molti di voi eh hanno già visto ehm però ci sono state abbiamo insomma riceviamo continuamente richieste di formazione da parte dei dirigenti da parte degli insegnanti però non abbiamo ancora persone eh diciamo formate che possano svolgere questo tipo di lavoro proprio parlando sempre delle guide mi riferisco sempre alle proposte di di per contare quindi ehm per questo motivo attraverso questo nuovo progetto ehm abbiamo proprio l'obiettivo di venire incontro a quelle che sono le vostre le vostre richieste il gruppo di lavoro quindi c'è sempre l'università di Pisa con cui noi abbiamo lavorato negli ultimi anni il referente scientifico Anna Baccaglini Frank che era già presente nel sin dall'inizio insomma nel 2011 ehm in dire per attività di diffusione e supporto nelle attività formative il finanziamento e della fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con il supporto operativo di Uniser al progetto partecipa anche i Prase di Trento e tutte le attività formative in presenza a distanza saranno realizzate grazie ai professori Silvia Funghi e Alessandro Ranplud che insomma chi ci segue li conosce già da tanti anni hanno ehm realizzato insieme alla professoressa Anna Baccaglini eh le le proposte ehm che trovate sul sito di percontare le proposte didattiche dalla prima alla punta e mh vi avvio verso la la conclusione del del mio brevissimo intervento per ricordarvi che sempre sul sito di percontare quindi ricordo www.percontare.it trovate sempre gli aggiornamenti anche rispetto a quelli che saranno quelle che saranno le informazioni in anteprima diciamo così ehm del del dei prossimi webinar perché ricordo come come dicevo prima sono sono otto i webinar nazionali e vi invito a iscrivervi per chi non l'abbia già fatto al sito perché eh gli iscritti riceveranno proprio le email direttamente già qualche mese prima eh prima di chiudere ricordo ancora che sempre nel homepage del sito nella sezione risorse trovate sempre i video formativi che raccogliono sono una sezione che raccoglie tutti i video che sono stati realizzati video eh scusate le registrazioni eh video del dei webinar delle formazioni che sono state realizzate dal 2011 ad oggi e questi video li trovate organizzati sia in ordine cronologico ci sono da tempo ma abbiamo inserito anche un nuovo un nuovo ordine che per argomento che sono stati eh quindi questo è un lavoro che è stato fatto proprio nel di recente però per andare incontro a anche tante richieste che ci arrivavano rispetto a alcuni contenuti che erano stati affrontati ehm in modo diciamo con approfondimenti diversi nei vari webinar che sono stati svolti negli anni precedenti. Bene io ehm ringrazio a tutti eh ringrazio a tutti voi eh per la partecipazione e ehm passo la parola a questo punto a ehm al presidente della fondazione Casa di Risparmio di Pistoia e Pescia e al professor Ezio Vincchi. Grazie a te. Sì buonasera a tutti e a tutte anche da parte mia eh come fondazione noi abbiamo deciso eh di sostenere eh questa iniziativa eh perché come sapete le eh fondazioni di eh origine bancaria eh devono eh hanno come missione eh quella di eh promuovere l'utilità sociale e lo sviluppo economico dei loro territori di riferimento. Quindi eh devono eh sostenere diciamo tutte quelle azioni eh che portano a uno sviluppo sia dal punto di vista eh sociale eh che economico eh dei loro eh territori di riferimento. E quindi eh occuparsi di formazione eh vuol dire anche eh preparare eh il futuro e eh come dire agevolare lo sviluppo eh delle eh comunità di riferimento. Perché formare i giovani di oggi eh vuol dire immaginare eh come sarà eh diciamo la comunità eh la comunità di domani. Eh il la formazione è una leva poi fondamentale anche eh per eh consentire a ciascun membro eh della nostra comunità di eh veder realizzate appieno eh le proprie eh capacità e la propria eh personalità. È anche un modo in soprattutto in un periodo di in inverno demografico come siamo oggi eh di eh cercare anche di aumentare eh poi la eh produttività futura eh perché laddove appunto ci saranno dei giovani formati eh la formazione che essi eh avranno acquisito consentirà anche loro di aumentare l'apporto la produttività eh nel nei lavori eh che andranno a fare e quindi questo aumenterà le risorse e le risorse da distribuire. Per assicurare eh tutto questo c'è bisogno quindi di una formazione che sia continuamente eh al passo con i tempi e quindi ci devono essere però anche eh dei formatori che a loro volta siano sempre eh al passo con i tempi quindi anche loro eh hanno bisogno eh hanno bisogno eh di formazione. Eh questo eh eh l'interesse poi eh per la formazione nell'ambito della matematica viene appunto dalla necessità che è sotto gli occhi di tutto insomma no eh di migliorare le conoscenze matematiche eh dei nostri giovani sia perché questo è giusto in generale eh sia perché eh diciamo eh gli sviluppi futuri diciamo delle eh tecnologie di tutto ciò che porterà eh appunto lo sviluppo delle dei nostri territori delle nostre comunità non potrà prescindere eh dal linguaggio eh della matematica. Noi eh eh questo eh attività di eh formazione direi di alta formazione come avviene in questo caso eh lo facciamo eh tramite una eh società strumentale che eh si occupa eh proprio di questo e eh che appunto Uniser eh che è qui rappresentata insieme a me e dal professor Menchi al quale appunto mh c'è la parola e vi saluto nuovamente. Sì intanto grazie mi scuso con voi per questi occhiali alla Blues Brothers ma vengono da una piccola operazione agli occhi diciamo un occhio di questi giorni cui mi hanno obbligato a portare questi occhiali. Allora io qui eh sottolineo solo questo questo aspetto della situazione più come cittadino che come componente protempore del consiglio d'amministrazione della fondazione e di Uniser. Mi piace sottolineare l'impegno che la fondazione ha accettato, ha accolto per eh investire in maniera sostanziale, investire e con continuità su questo aspetto della formazione eh matematica dei cittadini, su questo aspetto dell'aggiornamento, della innovazione, della formazione, nella didattica, della matematica e quindi negli effetti che questo ha sugli studenti. È una scelta specifica, una scelta di un'area specifica che però credo ecco identifica uno dei problemi formativi che abbiamo non solo in Italia ma in generale nei confronti delle altre realtà del mondo che ci chiede di impegnarsi, che ci chiede di riflettere, di ricercare, di approfondire questi aspetti perché la matematica non è più nei tempi moderni, nella visione moderna non è più una disciplina ma è un sistema di pensiero, è un metodo di pensiero, un metodo di analisi e un metodo di approccio alla risoluzione di problemi che vanno ben oltre l'area disciplinare. In questo senso mi sento come cittadino di Pistoia davvero molto orgoglioso, lo dico con franchezza diretta, del fatto che la fondazione abbia fatto questa scelta e la continui ad accompagnare con convinzione. Vi do solo due dati per chiudere. Il primo dato è che uno dei risultati di questo impegno è questa aula speciale diciamo di Carme che è un'aula veramente speciale che ha una dimensione tecnologica che sta pari o comunque spendibile anche a livello internazionale come una originalità e una speciale capacità di lettura ecco dei processi di apprendimento e di processi di elaborazione matematica. Questo centro Carme è collegato all'Università di Pisa, prima persona ad Anna Baccaglieri-Frank e collabora anche in pieno coordinamento con l'Università di Firenze. Di questo centro e delle sue attività siamo orgogliosi. La seconda nota che vi faccio è che terremo il 19 e il 20 di maggio a Pistoia, a Pistoia, a Uniser e a Pistoia il primo convegno nazionale della ricerca in matematica per la scuola ed è un impegno su cui contiamo che ha ricevuto, devo dire, nonostante il mese di maggio sia certamente un mese molto complicato per gli insegnanti e molto faticoso. Gli organizzatori hanno dovuto chiudere le escrizioni perché più di quel numero, 330, non potevano essere ospitati nel teatro dove faremo le plenarie. Ci saranno dei laboratori, 19 e 20 di maggio e quindi sarà il primo di un elenco di momenti di riflessione, di studio e di ricerca. Quest'anno il programma è davvero interessante, è davvero molto coinvolgente e pensiamo che questo sia il primo di una serie di situazioni che a Pistoia potranno competere con chi fa ricerca, competere nel senso buono, nel senso della qualità della ricerca e degli interventi verso la scuola perché ci preme questo, questo travaso dei risultati della ricerca, verso chi insegna e verso chi apprende, il primo di una lunga serie, diciamo, di convegni che potrebbero, dovrebbero portare Pistoia a livello dei punti nazionali ma anche oltre in cui si approfondisce, si lavora con continuità su questo particolare aspetto della formazione non solo degli studenti ma dei cittadini tutti. Auguro quindi anch'io come il Presidente un buon lavoro a voi e una buona giornata produttiva. Grazie, grazie ai relatori che mi hanno preceduto. Io riprendo la parola solo per passarla immediatamente alla professoressa Anna Baccaglini-Franc che avvierà questo seminario che ha come oggetto gli algoritmi delle divisioni trattati nella classe quinta di scuola primaria. Voglio assicurare le persone che stanno ponendo delle domande che alla fine dell'incontro risponderemo ai quesiti che già adesso sono stati posti in merito a questioni tecniche. Grazie ancora e lascio la parola ad Anna. Perfetto, buonasera a tutti e a tutti, grazie per tutte le presentazioni, introduzioni che mi rendono estremamente felice e orgogliosa, quindi non le ripeto e mi tuffo subito senza altre presentazioni preliminari nel vivo del nostro webinar a livello matematico di oggi. Vogliamo parlare delle estensioni degli algoritmi di divisione in classe quinta, quindi andiamo subito a vedere, ora vi introduco un po' la situazione in cui purtroppo diciamo molti bambini e bambine si trovano ad essere catapultati quando libri di testo presentano divisioni di questo tipo, addirittura qui vediamo un caso in cui il dividendo è un numero decimale che è una delle estensioni che vedremo insieme oggi. Che cosa può succedere? Qui vediamo una bambina un po' sconsolata perché poverina deve ricordarsi ed eseguire tutta una serie di passaggi. Metto il cappello sul 7, quante volte il 12 ci sta nel 7? Qui lo dico molto velocemente perché bisogna fare tutto in modo corretto e veloce secondo purtroppo molti libri di testo e molte pratiche sbagliate, quindi lo diciamo però facciamo questo esempio. Quindi il 7 non va bene, metto il cappello sul 78, quante volte il 12 ci sta nel 78? Faccio dei conti per trovare il multiplo di 12 più vicino a 78, ci sta 6 volte, scrivo il 6 al quoziente, eccolo qua e 12 per 6 fa 72 che sottratto dal 78 fa 6, ecco qui il 6 e vado avanti, abbasso il 3, lo scrivo accanto al 6 che diventa 63, quante volte ci sta il 12 nel 63? Faccio dei conti, ci sta 5 volte, scrivo 5 al quoziente, 12 per 5 fa 60 che sottratto dal 63 fa 3 e siamo qui. Non abbiamo ancora finito, scrivo la virgola dopo il 65, attenzione di qua magicamente e abbasso il 2 invece di qua, lo scrivo accanto al 3 che diventa 32, quante volte ci sta il 12 nel 32? Faccio dei conti, ci sta 2 volte, scrivo 2 al quoziente, 12 per 2 fa 24 che sottratto dal 32 fa 8. Bene, è praticamente uno scioglilingua, ce l'ho fatta ad arrivare fino alla fine, ma in tutto questo ci sono un sacco di, diciamo, perché a cui non si riesce a rispondere. Per esempio, che cosa vuol dire metto il cappello e perché sul 7 non erano 783,2 le cose da cui partivo, questo mettere il cappello, non si sa. Poi, ma perché devo vedere quante volte il 12 ci sta in tutte queste cose diverse? Non dovevo vedere quante volte stava in 783,2? Ma cosa vuol dire abbasso e perché il 3 accanto al 6 diventa 63? Tutte le altre volte che facevo così, la maestra mi diceva che non andava bene e invece adesso si può, si deve? E poi la virgola va dopo il 65 e non dopo il 3. Come mai non si abbassa anche la virgola a sinistra lì della sbarra verticale? Perché il 6 e il 5 che avevo trovato prima adesso sono diventati 65? E adesso arriva il bellissimo, attenzione, c'è questo 8 in fondo. Ma quindi, se distribuisco 783,2 ciambelle a 12 persone, ognuno ne riceve 65,2 e poi ne avanzano 8? Non torna. Cioè, il quoziente è 65,2 e 8 sarebbe il resto, se penso a come facevamo prima. Però non torna perché 65,2 per 12 fa 782,4. Quindi, diciamo, non ce ne stanno altri 8 dentro quel numero. Insomma, questa scenetta ci mostra quanto sia opaco questo algoritmo, che spesso viene insegnato a scuola, qui stiamo riprendendo da un libro di testo, rispetto ai significati matematici. Ora, a parte il ci sta, che richiama vagamente l'idea di approssimazione dal basso, tutti gli altri termini che si usano indicano azioni che non hanno nessun collegamento, ma nemmeno intuitivo, con qualche tipo di significato che ne giustifichi l'occorrenza. Ora, vi ricordo, qui si è parlato di mettere il cappello, di abbassare, poi la virgola, che però si abbassa, ma si abbassa, non si abbassa di là, si trascrive solo nella parte di destra, e poi perché abbassata una cifra, il risultato della sottrazione precedente con la cifra abbassata diventa, questo diventa un altro numero, numeri che diventano altri numeri. Al di là di tutto questo, diciamo, nonsense, c'è il problema che mi devo ricordare, il libro mi dice ricorda, ricorda tutte queste cose che, diciamo, mi tornano poco, non hanno davvero senso. Quindi così la matematica è semplicemente un insieme di regole senza senso da imparare a memoria. E infatti non è strano che, riprendendo qualche estratto dai temi che probabilmente conoscete, io e la matematica, quelli raccolti negli anni e analizzati da Pietro Di Martino e Rosetta Zan, troviamo passaggi che riguardano proprio la divisione. Per esempio, la cosa però che non mi piace della matematica sono le divisioni, che quando me le spiegano, dopo un giorno o due me le dimentico e me le devono rispiegare. Che rispiegare vuol dire dire quali passaggi vanno fatti. Il rapporto che ho con la matematica è a volte positivo e qualche volta negativo. È positivo quando ho senso di farcela, cioè in divisioni che mi riescono. Certe volte non le so fare perché inizio a fare confusione. Quindi il riuscire legato al saper fare, saper fare, eseguire semplicemente questi passaggi. Ancora, la matematica è una delle materie che mi piacciono di più perché è molto interessante. Questo discorso è per tutto quello che comprende la matematica, tranne che per le divisioni a due cifre, perché sono molto difficili. Però piano piano sto riuscendo a capirci qualcosa, perché prima mi strappavo i capelli. Quindi situazioni anche emotivamente molto pesanti, che probabilmente conoscete. Ma andiamo verso, diciamo, una visione positiva, una prospettiva, diciamo, ottimista. Come anticipavamo, questa è la domanda principale, questa. Ma perché l'algoritmo funziona? Diciamo questo, in realtà ne vedremo anche altri. E ci concentriamo proprio su questa domanda perché vogliamo riflettere con voi, e in realtà soprattutto con i bambini, nell'attività di Per Contare, perché è una domanda fondamentale. Perché? Perché consente di sviluppare insieme ai bambini i significati matematici che stanno alla base di questo e di altri algoritmi di divisione. Facendo questo permette di, con un lavoro, diciamo, attento, in realtà di confronto tra questo e altri algoritmi meno opachi di divisione, riusciamo ad affrontare i significati matematici chiave che sono legati alla scrittura in notazione posizionale decimale dei numeri e all'operazione di divisione. E arriviamo, gestendo questi significati, diamo ai bambini la possibilità di gestirli, capire quando e come fare cosa, e soprattutto ricordarsi, ma recuperare, ricostruire, diciamo, il fatto senza dover ricordare una sequenza di regole a memoria e senza significato. Allora, vi ricordiamo che una riflessione più approfondita su questa questione, proprio dell'introduzione alla divisione, è stata affrontata nel webinar del 25 giugno. Ricordo poi che sono proprio le indicazioni nazionali che suggeriscono a più riprese di lavorare sui significati matematici e non di usare un'imitazione di procedure come principale strategia di apprendimento. Quindi, in quest'ottica, per rispondere alla nostra domanda ma perché l'algoritmo funziona, come progetto per contare, suggeriamo di proporre diverse procedure e discutere perché consentono di arrivare allo stesso risultato finale, proprio perché mancano anche a livello linguistico e come, diciamo, conoscenze matematiche gli strumenti per poter discutere in astratto, diciamo, un solo algoritmo. Quindi, ecco, finito la mia introduzione che è già dentro, diciamo, i significati, i contenuti matematici del webinar, passo la parola a Silvia per prima. Grazie. Grazie, grazie Anna per l'introduzione. Buonasera a tutti. Vado a condividere il mio schermo e vi pregherei di confermarmi che sia tutto visibile. Sì, sì. Benissimo, grazie. Allora, in continuità con quanto appena introdotto da Anna Baccaglini-Frank, andiamo a riprendere in mano la scelta fatta da per contare per lavorare sui significati matematici che stanno alla base degli algoritmi di divisione. Per riprendere un po' le fila del discorso, quello che faremo sulla classe quinta che si innesta su quanto fatto per la classe quarta, ripartiremo da una prospettiva sugli algoritmi di divisione all'interno dell'insieme dei numeri naturali sulla quale poi, appunto, si andrà ad innestare una riflessione su possibili estensioni di questi algoritmi al di fuori dell'insieme dei numeri naturali, motivo per cui, appunto, vedete che il titolo qua vede queste estensioni degli algoritmi tra parentesi, perché in qualche modo cerchiamo di fare un po' un ponte fra le due cose. Rivediamo in modo molto veloce che cosa avevamo proposto per lavorare sulla scoperta dei significati matematici alla base di alcuni algoritmi di divisione nelle guide di classe quarta. Daremo qui soltanto un'idea generale e per i dettagli rimandiamo in maniera più specifica ai webinar precedenti e in particolare a quello del 16 settembre del 2021, che potete trovare sempre sul sito di Percontare. Ecco, qua vado molto veloce perché è stato già introdotto da Paola Angelucci, ma appunto tutti i materiali formativi possono essere trovati all'interno appunto della sezione video formativi nelle risorse e in particolare appunto rimandiamo nello specifico a tutti gli interventi fatti in precedenza sulle divisioni proprio all'interno di questa sezione. Ora, per chi non fosse a conoscenza dei contenuti, delle guide di Percontare di classe quarta, rivediamo velocemente l'algoritmo della divisione T per meno. Questo è un algoritmo molto simile alla più nota divisione in colonna e ha in comune con la divisione in colonna il fatto di essere un algoritmo piuttosto opaco, come abbiamo voluto segnalare con l'icona insomma della bambina preoccupata qui sulla destra. Opacità che condivide condivide tutta una serie di elementi con quanto presentato inizialmente sempre da Anna Baccaglini-Frank. Per illustrare la divisione T per meno ci facciamo guidare da un esempio 2504 diviso 47 e il primo passaggio è quello di scrivere alcuni multipli utili del divisore che nel nostro caso sono il multiplo per uno per due per cinque e per dieci. Sappiamo infatti già dalla classe seconda che questi sono i multipli più semplici da calcolare e chiaramente il multiplo di uno e il multiplo di dieci sono abbastanza diciamo automatici e il multiplo di due è abbastanza facile da trovare di solito il multiplo di cinque può essere ottenuto abbastanza agevolmente dividendo a metà il multiplo di dieci quindi possiamo prendere questi come multipli facili diciamo da ricavare e inoltre se consideriamo complessivamente questi quattro multipli notiamo che questi sono sufficienti a ricavare tutti gli altri attraverso l'uso della proprietà distributiva dopodiché possiamo impostare il diagramma da notare che gli spazi predisposti per inserire le cifre del quotiente sono lo stesso numero delle cifre del dividendo quindi in questo caso abbiamo quattro spazi per le cifre del quotiente e questo è indipendente dal successivo sviluppo della divisione questa è un po' la differenza più grande rispetto invece al diagramma della divisione in colonna più classica a questo punto andiamo a svolgere i passaggi secondo l'acronimo T per meno che è appunto che costituisce insomma il nome dell'algoritmo esplicitandole in questo modo anche il significato la T sta per taggo la prima cifra del dividendo il taggo è questo puntino che compare in questo caso sopra al al 2 dopo di che andiamo ad inserire il numero dei volte che il divisore sta nella cifra che abbiamo appena taggato e in questo caso il 47 nel 2 è contenuto chiaramente 0 volte quindi andiamo ad inserire 0 nel primo spazio a sinistra riservato al quotiente a questo punto arriviamo al per dell'acronimo andiamo a moltiplicare il divisore per il numero che abbiamo trovato in questo caso 47 per 0 fa 0 e andiamo quindi a sottrarre quanto ottenuto quindi in questo caso andiamo a sottrarre 0 dalla cifra che avevamo taggato 2 meno 0 mi da 2 e quindi diciamo rimango con questo 2 come risultato della sottrazione effettuata a questo punto ripetiamo tutto il ciclo dato dall'acronimo T per meno fino a che non abbiamo taggato tutte le cifre del dividendo qui andiamo veloce chiaramente per motivi di tempo ma nelle guide troverete tutti i video e tutti i materiali che vi accompagnano passo passo proprio nella descrizione dell'algoritmo ok una volta che le cifre del dividendo sono state taggate tutte la divisione si conclude e quindi in questo caso abbiamo ottenuto 2.504 come 47 per 53 più 13 all'interno del sito per contare è anche possibile trovare software per la risoluzione della divisione con l'algoritmo T per meno in questo caso lo svolgimento dell'algoritmo come si può vedere da questa slide è accompagnato da elementi grafici e da opportune domande guida che servono appunto a agevolare insomma lo svolgimento come algoritmo più trasparente che permettesse di lavorare proprio sul confronto con la divisione T per meno che abbiamo appena visto abbiamo scelto di introdurre un secondo algoritmo quello della divisione canadese già in classe terza anche in questo caso facciamo un richiamo veloce ma rimandiamo per maggiori approfondimenti a webinar precedenti e in particolare quello del 5 maggio 2020 che vedete qui richiamato la divisione canadese è un algoritmo che si basa su un progressivo processo di distribuzione in cui il dividendo va svuotandosi progressivamente questo particolare approccio alla divisione permette al bambino di capire in modo autonomo quando l'operazione è arrivata al termine permette di portare a termine la divisione anche senza conoscere tutte le tabelline cosa che permette di introdurre l'operazione di divisione anche prima che i bambini abbiano perfezionato la memorizzazione delle tabelline quindi molto presto volendo anche dalla classe seconda e poi come abbiamo detto appunto è un algoritmo più trasparente rispetto ad altri algoritmi di divisione cioè i bambini possono sempre risalire al significato dei singoli passaggi che stanno compiendo proprio dal punto di vista del processo distributivo anche qui in questa slide vedete un software disponibile sul sito di percontare per lavorare con i bambini proprio sulla divisione canadese come vedete anche in questo caso è possibile trovare una parte dedicata allo svolgimento dell'algoritmo in forma scritta affiancata però da una parte di animazione grafica che ha appunto lo scopo di mantenere forte questo aggancio tra la scrittura matematica e il significato dei passaggi rispetto ad un processo di distribuzione soffermiamoci adesso su quello che viene introdotto e sviluppato poi più nello specifico nelle guide di classe quarta ovvero una delle possibili ottimizzazioni della divisione canadese rispetto alla notazione posizionale decimale in questa in questa ottimizzazione quello che succede è che si va a sottrarre progressivamente dal dividendo prodotti del divisore per potenze di 10 in questo esempio se consideriamo 14.786 diviso 35 il primo prodotto che andiamo a diciamo che andiamo a sottrarre sarà un multiplo di 35 per la massima potenza di 10 che si può considerare se consideriamo 1000 che 35 va oltre il nostro dividendo e quindi possiamo scendere considerare andare a considerare i prodotti di 35 per cento tra tutti i prodotti di 35 per cento quello che può fare insomma al caso nostro può essere questo 35 per 400 ovvero 35 per cento ripetuto 4 volte in questo modo ci avanza 786 dal quale possiamo sottrarre 35 per 20 che è 35 per 10 per 2 e così via possiamo arrivare quindi all'ultimo passaggio dove ci rimane 86 e quindi possiamo sottrarre 35 per 2 che è 35 per 1 per 2 leggendo l'1 come 10 alla 0 e quindi arriviamo ad avere come risultato della nostra divisione 14.786 uguale a 35 per 400 più 20 più 2 più 16 mantengo la condivisione a questo punto lascio la parola al collega Alessandro Ramplu grazie mille buonasera a tutti e a tutti beh adesso che abbiamo introdotto due algoritmi diversi per il calcolo della divisione cerchiamo di capire come sia possibile sfruttarli come artefatti in sinergia per lo sviluppo di significati matematici questa parte ne approfittiamo anche per portare l'attenzione della pubblicazione di una nuova fase che è all'interno dell'attività di quarta sulla divisione proprio della t per meno che è una fase specificamente dedicata alla sinergia tra i due algoritmi di divisione che sono stati fin qui introdotti dalla collega bene a questo punto la consegna che abbiamo scelto per mettere in moto la sinergia di algoritmi è stata quella di effettuare la stessa operazione in questo protocollo 351 diviso 3 sia con la divisione canadese che con la divisione t per meno in questa immagine il bambino o la bambina ha effettuato la divisione t per meno a sinistra e ha scelto di effettuare la divisione canadese ottimizzata come vi descrive la collega prima a destra i bambini potevano ovviamente effettuare sia la versione ottimizzata che quella non ottimizzata con questa particolare scelta è possibile osservare che i due algoritmi presentano quelle che potremmo chiamare delle corrispondenze singolari e cioè chiedo a Silvia di andare avanti con la presentazione grazie esatto cioè vediamo come si sono si creano delle corrispondenze fra la divisione la divisione t per meno e la divisione canadese come vedete sono evidenziati in questo con questi con queste frecce che mettono in corrispondenza gli elementi delle due differenti divisioni ma che hanno una perfetta corrispondenza e che vedremo dopo ritorneranno nei video che vi faremo vedere quindi cerchiamo a questo punto di capire se queste corrispondenze tra i segni possono dirci qualcosa di più sui significati matematici chiedo quindi di mandare il primo video che adesso vedrete e che ha proprio questa caratteristica che riprende questi aspetti procedo un attimo con la ricondivisione per permettere la trasmissione dell'audio sì vediamo adesso uno spezzone quindi di questo video dove alcuni bambini commentano proprio quel confronto che abbiamo visto prego le cose secondo me sono giuste tutti e due e ho notato anche un'altra cosa che nella canadese io vedo che aggiungi sempre un numero se tu togli tipo dal settecento lì due zeri diventa sette se togli dal settecento quello che volevo dire il quattro togli il quattro diventa diciassette è come se nella canadese aggiungessi il numero quindi Francesca e anche Filippo aveva detto questo numero qui questo quattro qui che c'è vicino al centosettantaquattro qui non c'è perché nella canadese è come se l'avessimo aggiunto capito bene il finale è uguale ok ti fermo un secondo Franci che vorrei sentire anche Filippo che me lo spiega anche lui dopo arrivo al finale non me lo dimentico dimmi sono lungo uguali perché anche quello che ha detto Matteo è la Francia giusto perché perché sono lungo uguali perché secondo me settecento come ha detto la Francia se ci togli i due i due zeri è sette è sette e poi diciassette se ci aggiungi il quattro è centosettantaquattro e centoquaranta se ci aggiungi lo zero diventa 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 quattordici ecco questo appunto è un primo video adesso chiedo gentilmente di mandare anche il secondo video dove possiamo osservare un altro commento da parte di un altro bambino di un'altra classe sperimentale proprio su questi stessi elementi volevo dire che se questo qua era per cento questo qua era per cento allora però e però no perché perché un errore ci serve sempre lo sai perché no ok questo qua è per cento sì questo è diverso e rimane uno ancora ok quindi questo giro poi faccio vedere la decina quindi decina ok 14 perché era di centoquaranta sì 14 decine di vento centoquaranta e il due decine rimane questa qua è un'unità è un'unità ok 23 23 non è un'unità 1 2 e quindi il due cos'è il due è un'unità il due è un'unità ok benissimo abbiamo visto quindi come i bambini le affrontano questi due video ci sembrano molto indicativi di quello che abbiamo cercato appunto di sottolineare con l'idea di sinergia tra artefatti algoritmi come artefatti qui adesso vediamo invece due protocolli dove ritroviamo osservazioni simili a quelle portate dai bambini nei video e dove si cominciano a trovare segni che possono evolvere verso una più completa argomentazione dei motivi che si nascondono dietro al funzionamento dei due algoritmi ricordiamoci quello che ci ha mostrato all'inizio Anna Baccaglini Frank e di come qui invece i bambini cominciano a trovare delle spiegazioni anche in questo caso riprendiamo quello che avevamo visto quindi in webinar precedenti per quello che riguarda la divisione fra numeri naturali la sinergia di algoritmi in questo caso la divisione T per meno a sinistra e la canadese ottimizzata a destra ci ha permesso di cogliere come alla base dei due algoritmi ci fosse lo stesso processo distributivo nel call out che vedete qui c'è questo 9 in realtà corrisponde alla distribuzione di 9 centinaia e quindi corrisponde a 900 unità questo 18 in realtà corrisponde alla distribuzione di 18 decine e quindi corrisponde a 180 unità questo 24 corrisponde alla distribuzione di 24 unità e quindi corrisponde alle 24 unità distribuite all'ultimo giro della canadese avete visto come tutti questi elementi ora concorrono ad aiutare la bimba che adesso vedete non è più così disperata ma finalmente è in grado di darsi delle spiegazioni infatti l'uso sinergico a nostro avviso dei due artefatti può portare ad una generalizzazione del significato matematico quindi di scrittura posizionale di operazione di divisione in relazione al numero e all'interpretazione di scritture diverse del numero ma soprattutto il significato può emergere attraverso la sinergia attivata dal confronto tra le esperienze con ciascuno degli artefatti e dalla messa in relazione di tali esperienze dobbiamo però prestare attenzione perché la sola presentazione di un algoritmo trasparente non è detto che sia sufficiente a favorire la comprensione dei significati matematici che stanno alla base del funzionamento degli algoritmi più formali o più opati infatti la scelta di presentare un algoritmo trasparente risponde ad un'esigenza di includere tutti i bambini non dimentichiamo che la divisione canadese può essere capita e apprezzata anche dai bambini con maggiore difficoltà ma non è questo ovviamente il motivo principale i nostri obiettivi erano altri in particolare quello di spostare il focus dall'algoritmo ai significati lo abbiamo visto anche che sono le indicazioni nazionali che ce lo chiedono cioè dal come ai perché che stanno alla base dell'algoritmo in questo senso cioè volevamo che l'algoritmo trasparente funzionasse come una sorta di apriscatole rispetto a quello più opaco infatti come dicevamo inizialmente capire i perché ci permette di avere più controllo sull'algoritmo che si sta svolgendo quindi arriviamo davvero a quella massima che per noi è molto importante cioè non mi ricordo se non capisco e con tutta la matematica è così guardate come dal dalla partenza ci siamo fortemente allontanati abbiamo cercato di spingere sull'aspetto di significato per concludere questo primo mio frammento è proprio il confronto tra i due algoritmi e non l'introduzione di più di un algoritmo in sé che ci ha portato a scoprire i perché nascosti l'idea del progetto è proprio quella di far fare agli studenti un'esperienza da veri matematici in cui usare gli strumenti che hanno a disposizione per cercare di recuperare significati che sono rimasti nascosti li avete visti nei video i bambini lavorare come dei veri matematici ragionare sul perché una certa strategia risolutiva abbia senso e funzioni e discutere i motivi per usare un algoritmo piuttosto che un altro queste sono attività che stanno proprio al cuore della matematica e consentono davvero processi di sviluppo diversificati e quindi per noi fortemente inclusivi e lascio la parola alla collega Silvia Funghi per uscire dall'insieme dei numeri naturali ringrazio Alessandro e prendo il testimone come giustamente anticipato a questo punto siamo pronti ad andare a vedere proprio la parte di novità costituita dalle guide di classe quinta sulle divisioni e in particolare quali scelte abbiamo intrapreso come diceva appunto Alessandro un minuto fa per uscire fuori dall'insieme dei numeri naturali per meglio seguire il percorso abbiamo presentato abbiamo pensato scusate di costruire questo indice sintetico di sviluppo di ciò che andremo a mostrare quindi fino ad adesso abbiamo un po' ricapitolato quello che era stato fatto finora nell'insieme dei numeri naturali e adesso ci spostiamo verso appunto quello che si può fare per uscire da questo insieme numerico nello specifico che cosa che cosa andiamo a sviluppare all'interno delle guide di classe quinta si parte da un'estensione degli algoritmi già visti fino ad adesso quindi canadese e t per meno per andare ad ottenere non più una coppia quoziente resto come risultato dell'operazione di divisione ma per ottenere un quoziente razionale come vedremo meglio tra un attimo questo nasce da un'esigenza abbastanza naturale di cercare in qualche modo di distribuire il resto questa operazione di estensione ci darà poi modo di estendere diciamo la sinergia dei algoritmi per andare a scoprire appunto che cosa cosa cambia nel processo distributivo quando lo andiamo ad applicare appunto alla notazione posizionale decimale oltre i numeri naturali e poi andremo a vedere come come casi diciamo più più difficili il caso in cui il dividendo sia un numero decimale e il divisore un numero intero vedremo che anche in questo caso si tratta di una estensione e poi l'ultimo come ultimo step vedremo il caso più generale in cui sia il dividendo che il divisore sono numeri decimali ora per semplicità di presentazione partiamo dall'estensione della divisione canadese questo passaggio fuori dai numeri naturali come accennavamo nasce in contesti concreti di distribuzione in modo abbastanza spontaneo anche da bambini più piccoli della classe quinta cioè nasce con l'idea di non fermarsi appunto alla coppia pozziente resto che avevamo nella divisione tra numeri naturali svolta fino ad adesso ma di provare a dividere il resto ulteriormente in un certo numero di parti uguali e continuare il processo distributivo come si può vedere qui nell'animazione il resto di tre interi è stato suddiviso in mezzi cosa che permette di distribuire quattro mezzi e di averne due di resto che vengono ulteriormente suddivisi in quarti questa cosa permette di completare la distribuzione assegnando come ultimo passaggio proprio un quarto di striscia a testa e in questo modo abbiamo ottenuto non più appunto una coppia come risultato una coppia quoziente e il resto entrambi numeri naturali ma otteniamo invece un solo quoziente che è in realtà un numero misto cioè è un numero composto da una parte intera più una parte frazionaria con altre scelte di distribuzione si può vedere che lo stesso quoziente può essere ottenuto come numero razionale ottenuto magari anche in altre forme frazionalie e sotto certi casi può essere anche ottenuto come numero decimale ora tra tutti i modi possibili di eseguire la canadese come ricorderete abbiamo dato una rilevanza particolare alla versione ottimizzata di questo algoritmo rispetto alla notazione posizionale decimale cerchiamo a questo punto di capire come si possa mantenere ed estendere questo tipo di ottimizzazione quando proprio vogliamo seguire questa intuizione di distribuire anche delle frazioni del resto per farlo partiamo da un esempio vedete che qui abbiamo svolto con l'algoritmo che ottimizzato che però avevamo visto fino a questo momento la divisione 1018 diviso 8 in questo caso nella nella divisione che conoscevamo fino a questo momento ci saremo fermati qui e avremmo scritto come risultato 1018 uguale 8 che moltiplica 100 più 20 più 7 e poi più 2 se ricordate la divisione canadese funziona abbiamo detto con uno svuotamento progressivo del dividendo andando a sottrarre progressivamente nel caso dell'ottimizzata dei prodotti del divisore e della massima potenza di 10 possibile nel dato passaggio nell'esempio che abbiamo considerato nei vari passaggi sono stati sottratti nell'ordine un prodotto di 8% poi un prodotto di 8 per 10 e poi un prodotto di 8 per 1 che se vogliamo possiamo anche leggere come prodotti di 8 per 10 alla seconda 8 per 10 alla prima e 8 per 10 alla 0 una volta arrivati in quinta cosa cambia che abbiamo introdotto numeri decimali e frazioni quindi siamo in grado di lavorare anche con numeri che non sono più dei numeri naturali ma sono dei numeri che stanno nell'insieme dei numeri razionali quindi possiamo operare la scelta di estendere la canadese ottimizzata mantenendo l'idea di ottimizzazione rispetto alla notazione posizionale decimale cioè andando a sottrarre prodotti del divisore e potenze di 10 scelte in questo modo se le potenze di 10 sono delle potenze di 10 positive fondamentalmente ricado in quello che già conosco quindi sono andando a sottrarre un prodotto del divisore per 10 100 1000 eccetera o anche 1 se appunto se la considero come potenza 10 al 0 la cosa nuova che viene introdotta in questo senso è la possibilità di sottrarre anche prodotti del divisore e potenze negative di 10 caso in cui ottengo delle frazioni decimali nel nostro esempio per proseguire appunto a sottrarre possiamo per esempio andare a sottrarre il maggior numero di decimi possibili in questo caso che cosa è successo che abbiamo considerato il prodotto 8 per un decimo un decimo infatti corrisponde alla potenza negativa 10 alla meno 1 e a questo punto che cosa succede che se pensiamo il 2 come 20 decimi quindi lo rileggiamo in modo equivalente possiamo allora individuare tra tutti i prodotti di 8 per un decimo per un numero intero di volte 16 decimi come il prodotto più grande possibile che possiamo sottrarre da 2 ottenendo quindi come diciamo come risultato di questa sottrazione che ci rimangono 4 decimi ancora da distribuire a questo punto possiamo andare a cercare di sottrarre il maggior numero di centesimi possibile e quindi andiamo a considerare il prodotto 8 per un centesimo e guardiamo ai 4 decimi che ci sono avanzati come 40 centesimi questo ci permette di individuare tra tutti i prodotti possibili di 8 per un centesimo per un numero intero di volte 40 centesimi come il prodotto più grande che possiamo sottrarre in questo caso come sicuramente molti di voi avranno già intuito la cosa ci permette proprio di sottrarre una frazione equivalente ai 4 decimi che ce ne erano rimasti da distribuire e quindi in questo caso esauriamo quello che potevamo distribuire quindi a termine e quindi possiamo scrivere come risultato della nostra divisione 1018 diviso 8 uguale 100 più 20 più 7 più 2 decimi più 5 centesimi come potete notare c'è una modalità differente di scrivere il risultato su cui torneremo più avanti in questa presentazione più in generale in questa estensione quando passo a dividere il resto tra virgolette vado a considerare il prodotto del divisore e della massima frazione decimale possibile ed ad individuare ad ogni passaggio dell'algoritmo quante volte è necessario moltiplicare questo prodotto per un numero intero per sottrarlo da ciò che ho ancora da distribuire vediamo in questa animazione a cosa corrisponde questo tipo di scelta a livello appunto di processo distributivo in questo caso abbiamo ottenuto vedete come diciamo al primo passaggio abbiamo distribuito 7 decimi per ciascuno per ciascuno smile e al secondo 5 centesimi quindi cosa viene fuori abbiamo ottenuto sicuramente un processo di distribuzione più complesso che però ha il vantaggio di permetterci di ottenere un quoziente che si può tradurre in numero decimale in maniera abbastanza immediata grazie a tutto il lavoro che è stato fatto sul bruco germano quindi in questo caso il quoziente che otteniamo lo otteniamo nella forma 2 più 2 decimi più 5 centesimi che ci permette di convertirlo abbastanza agevolmente nel numero decimale 2,25 cosa che non era altrettanto automatic con la scrittura 2 più un mezzo più un quarto che avevamo visto con il precedente esempio di distribuzione andiamo adesso come secondo passaggio ad estendere l'altro algoritmo che avevamo introdotto in classe quarta ovvero la divisione t per meno partiamo anche in questo caso da un esempio specifico e riprendiamo anche qui l'algoritmo nel punto in cui ci si sarebbe fermati se fossimo rimasti all'interno dell'insieme dei numeri naturali in questo caso avremmo avuto come risultato la relazione che qui vedete 2.550 uguale 48 per 53 più 6 ricordiamo che in classe quarta questo algoritmo era stato introdotto in modo simile a procedura per la divisione in colonna che abbiamo visto all'inizio nell'intervento di Anna Baccalini Frank ovvero come una procedura da eseguire in modo abbastanza mnemonico una pilastrocca come ha detto Anna Baccalini Frank usando tra l'altro termini non immediatamente comprensibili rispetto ad un qualche significato matematico abbiamo usato parole come taggo basso che abbiamo visto che non rendono non rendono il senso dei passaggi dell'algoritmo andiamo quindi a vedere cosa succede quando proviamo a estendere appunto l'algoritmo per andare oltre i numeri naturali per continuare il ciclo supposto dall'acronimo tip per meno quello che si può fare è andare ad aggiungere uno zero dopo la l'ultima cifra del dopo la virgola e l'ultima cifra del del dividendo come si è visto qui nella slide in questo modo si può perpetuare il ciclo finché finché si vuole quindi in questo caso se prima c'eravamo fermati a questo 6 che avevamo ottenuto come ultima sottrazione aggiungendo la virgola e lo 0 cosa si può fare si tacca lo 0 lo 0 scende e a questo punto si può continuare a fare il discorso che si faceva in precedenza quindi inserisco il numero di volte che 48 sta in questo 60 che ho ottenuto in questo passaggio in questo caso ci sta una volta quindi vado a mettere una virgola al quotiente segno 1 dopo la virgola del quotiente e vado quindi a sottrare 48 ora per motivi di tempo anche qui andiamo velocemente ma fondamentalmente quello che succede è che si può andare avanti appunto aggiungendo 0 dopo la virgola finché si vuole in questo caso ecco arriviamo a un punto in cui il processo di distribuzione ci permette di distribuire tutto quello che avevamo sul piatto possiamo dire e quindi a questo punto possiamo concludere il nostro algoritmo scrivendo il risultato ottenuto in una di queste due maniere equivalenti o in forma moltiplicativa o in forma di divisione ora anche in questo caso dal punto di vista della trasparenza dell'algoritmo possiamo concludere possiamo vedere abbastanza in modo abbastanza evidente come anche in questo caso i significati siano assolutamente opachi non trasparenti non evidenti l'algoritmo può essere veramente difficile da ricordare e se non ho costruito tra l'altro dei significati matematici forti a cui legare la mia memoria può essere veramente molto facile perdersi nei vari passaggi e confondersi per esempio perché è lecito far comparire una virgola dal nulla con quale criterio si possono aggiungere degli zeri dopo la virgola queste domande in una procedura opaca appaiono del tutto arbitrarie e prive di significato il punto qual è che grazie al lavoro sulla sinergia fatto in classe quarta e al lavoro sulle frazioni e sui numeri decimali che si sviluppa in classe quarta e in classe quinta adesso abbiamo tutti gli strumenti per costruire dei significati matematici solidi a riferimento proprio di una procedura di questo genere riprendiamo quindi la domanda che c'eravamo posti per la tip per meno sui numeri naturali e riconsideriamo in qualche modo scalata per l'algoritmo esteso come ricordavamo inizio l'apprendimento per imitazione è necessario anche perché la procedura semmai è diventata più complessa non si è semplificata rispetto a quella che conoscevamo prima e quindi diciamo difficoltà nella memorizzazione di questo tipo semmai è aumentata non è diminuita diventa quindi cruciale domandarsi come possiamo utilizzare il confronto di algoritmi per capire perché funziona questa estensione per ripitolare se prendiamo per esempio la divisione 1107 diviso 12 e la svolgiamo sia con l'algoritmo t per meno sia con la canadese ottimizzata adesso quello che possiamo fare è scegliere di andare oltre il quotiente naturale ma andare verso appunto il quotiente razionale per la t per meno quello che appunto l'algoritmo prosegue fino ad ottenere come quotiente 92,25 e allo stesso modo la canadese ottimizzata che anche in questo caso vuole funzionare per scatole per l'algoritmo più opaco che è quello della t per meno estesa prosegue andando a distribuire come vedete un prodotto della moltiplicazione 12 per 0,1 che è chiaramente un altro modo di scrivere la moltiplicazione 12 per un decimo andiamo poi appunto a sottrarre come ultimo passaggio un prodotto di 12 per 0,01 che è chiaramente un altro modo di scrivere il prodotto 12 per un centesimo e anche in questo caso esauriamo tutto quello che avevamo da distribuire e otteniamo come quoziente 90 più 2 più 0,2 più 0,05 che grazie al blocco germano possiamo ricollegare con il numero decimale 92,25 che avevamo ottenuto nella t per meno ora in questo caso il confronto dei due algoritmi ci racconta che questo 24 che sottraevamo nel penultimo passaggio della t per meno in realtà corrisponde alla distribuzione di 24 decimi e quindi al 2,4 scusate che abbiamo sottratto nel penultimo passaggio della canadese ottimizzata similmente il 60 che nella t per meno avevamo sottratto proprio all'ultimo passaggio in realtà corrisponde alla distribuzione di 60 centesimi e quindi corrisponde in numero decimale allo 0,6 che avevamo sottratto all'ultimo passaggio della canadese ottimizzata chiudiamo quindi il cerchio in un certo senso attraverso la divisione canadese ottimizzata estesa siamo riusciti a dare un senso un significato ai passaggi della t per meno estesa vedete che qui la bambina è molto contenta di nuovo di essere riuscita a dare un senso a un algoritmo tanto opaco come t per meno estesa in particolare si scopre che anche per questa t per meno in un certo senso continua ad essere vero quello che avevamo scoperto per la t per meno sui numeri naturali cioè che ad ogni passaggio dell'algoritmo sembra che si stia sempre operando in unità sembra che si stia sempre usando dei numeri interi ma in realtà in maniera non evidente non esplicita quello che sta succedendo è che si sta cambiando ordine di grandezza nel caso esteso quando in particolare si vanno a taggare le cifre del dividendo dopo la virgola diciamo quello che si sta facendo è che si sta in realtà andando a maneggiare decimi centesimi millesimi e così via ma questo non è non è per niente evidente e qui ridò la parola al collega Alessandro grazie mille Silvia riprendo subito la parola beh a questo punto vi mostriamo come nelle guide del progetto per contare sono previsti dei software specifici che consentano di continuare a lavorare sui due differenti algoritmi per la divisione anche oltre i numeri naturali come avremo modo di vedere trambi hanno delle limitazioni relativamente al numero di cifre al divisore al dividendo e alla possibilità di procedere nella divisione tra decimi e centesimi perché scelta è assolutamente intenzionale perché come già anticipato in altri webinar la costruzione dei significati è opportuno svilupparla su esempi significativi e che consentano in chiave inclusiva di allargare il più possibile la partecipazione delle bambine e dei bambini questo esempio che vedete è questo software per la divisione T per meno questo esempio è emblematico perché nel momento in cui si decide di uscire dall'insieme dei numeri naturali adesso qui vedete il video che scorre le occorrenze in cui il resto della divisione arriva a zero sono decisamente inferiori alle occorrenze in cui la divisione non termina questo è l'entro su cui bisogna stare molto attenti e portare molta attenzione perché esiste questo problema con la divisione ovviamente vorremmo sottolineare come il caso considerato è quello di una divisione che è apparentemente molto semplice 11 diviso 6 ma proprio uscita dall'insieme dei naturali però ci mostra tutta una complessità che può essere estremamente interessante indagare per comprendere maggiormente cosa significa dividere nell'insieme ovviamente dei numeri razionali ma andiamo avanti non ci soffermiamo più di tanto ma poi ci ritorneremo nel finale però vorremmo riprendere la considerazione fatta in mente osserviamo che proprio alla fine del software per formalizzare l'operazione svolta viene proposta una scelta possiamo decidere se formalizzare col segno di uguaglianza se nel processo distributivo siamo riusciti a distribuire tutto il dividendo oppure col segno di circa uguale a approssimato a come quando scegliamo di fermarci di non distribuire tutto il dividendo per ricapitolare appunto a cosa mi serve questa riflessione sulla possibilità di scegliere se continuare o meno a dividere a distinguere tra i casi in cui il quoziente della divisione in oggetto è esatto e quelli dove invece scelgo di operare un'approssimazione sulla base delle mie esigenze e delle mie possibilità altro software e vediamo subito dopo e quello invece per la divisione canadese dopo aver visto quindi il software per la tip per meno vediamo diamo uno sguardo a questo software proprio in funzione della costruzione di sinergie fra algoritmi al software per la divisione canadese appunto ricorda lo avrete visto anche richiama tutto quello che avete visto nella in classe terza per chi l'avesse già visto anche in questo caso vorrete ad utilizzarlo vi accorgerete che limitato da alcune scelte specifiche non è possibile svolgere qualsiasi divisione è importante questa sottolineatura perché nessuno di questi software deve essere pensato come una sorta di alternativa alla calcolatrice vediamo come funziona in questo passaggio una volta che abbiamo svuotato il dividendo di un numero intero di volte e ci sono restati dei dolcetti numero inferiore del divisore possiamo operare una scelta ecco qua il punto possiamo decidere di andare avanti e dividere le ciambelle quindi uscire dall'insieme dei naturali oppure arrestare la divisione e scrivere quindi il risultato come abbiamo già imparato a fare in precedenza è importante che gli insegnanti abbiano presente il fatto che ci troviamo di fronte a una decisione a una scelta che va raccontata con le intenzionalità educative che vogliamo sviluppare e non con una qualsivoglia prescrittività perché si deve fare in quel modo qui possiamo vedere come si conclude la divisione se decidiamo scegliendo di cliccare sul tasto se lo facciamo che cos'è che ci capita che ritorniamo alla divisione all'interno dell'insieme dei numeri naturali cioè il risultato che vediamo scritto qui 246 uguale 12 per 20 più 6 che è assolutamente corretto non è necessario procedere ulteriormente se non abbiamo necessità di uscire fuori dall'insieme dei numeri naturali se invece clicchiamo sul tasto si si apre uno scenario completamente differente e anche in questo caso possiamo ulteriormente decidere di muoverci in modi differenti come abbiamo già visto nella presentazione dell'operazione svolta con carta e penna e quindi possiamo decidere come frazionare il resto cioè se scegliamo le frazioni generiche per esempio dividiamo le ciambelle in due parti uguali che cosa succede? è interfaccia del software che genera in questo caso 12 pezzi 12 mezzi rappresentati da spicchi di ciambello si vede la leggenda in basso che vedete rappresentata sotto e genera uno spazio nella casella della domanda in cui riportare la frazione di ciambella che è possibile distribuire rispetto al divisore nel nostro esempio possiamo scegliere quindi dare un mezzo per ciascun smile così possiamo quindi distribuire in tutto 12 mezzi che era esattamente la quantità di ciambella rimasta sul piatto questo punto compare una scrittura analoga a quella vista sugli interi nel riquadro basso a destra compare la possibilità di scrivere il risultato ottenuto e anche in questo caso sarà possibile modificare il segno di ugualianza con il segno di approssimato a nel caso in cui la divisione come abbiamo già detto non sia ancora terminata possiamo ulteriormente decidere di muoverci modi differenti come abbiamo già visto nella presentazione dell'operazione svolta con carta e pen in questo caso possiamo decidere come frazionare il resto se scegliamo le frazioni decimali per esempio dividiamo le ciambelle in dieci parti uguali in questo caso se il simbolo della partizione della ciambella rimane uguale possiamo però constatare che il numero di pezzi che sotto riproduce è superiore alla partizione svolta in precedenza che suddivideva a metà le ciambelle intere rimaste qui possiamo contarne addirittura 60 come possiamo notare la distribuzione dei decimi di ciambella ci permette di stabilire in questo caso che ad ogni smile sono assegnati 5 decimi di ciambella non rimarrà alcuna parte del resto quindi a questo punto arrivati al termine della divisione compare lo spazio in basso a destra per la scrittura del risultato come in precedenza è possibile modificare anche in questo caso il segno come già specificato precedentemente a questo punto ripasso la parola alla collega Silvia Funghi per il dividendo con la virgola grazie Alessandro eh sì direi che a questo punto abbiamo eh abbiamo sviscerato i primi due i primi due step dell'indice che abbiamo presentato inizialmente quindi abbiamo esteso i due algoritmi e abbiamo visto eh come la sinergia di di algoritmi ci aiuta a eh spiegare il funzionamento dei dei due algoritmi e in particolare di quello più più opaco meno trasparente rispetto ai significati matematici e a questo punto quello che vogliamo fare è eh cercare in qualche modo di generalizzare anche ai casi dove eh il dividendo e il divisore non sono naturali ma possono essere anche numeri decimali quindi eh facciamo quindi un primo step eh intermedio eh in cui ci andiamo a domandare che cosa succede se è il dividendo ad essere un un numero non naturale quindi un numero decimale che ha delle cifre decimali non nulle dopo dopo la virgola ecco diciamo che può sembrare un passaggio abbastanza diciamo può non essere scontato come come fare questa questa generalizzazione di quello di quanto abbiamo visto fin qui in realtà eh diciamo che una volta fatta la fatica di impostare e di sviscerare la sinergia di algoritmi che abbiamo visto fino a questo momento l'estensione viene abbastanza naturale vedete che qui in questo caso la la divisione tip per meno va avanti in maniera assolutamente analoga a quanto visto al caso eh su insomma per quanto riguardava l'estensione vista poco fa e analogamente eh vale per la canadese ottimizzata quindi anche in questo caso diciamo il l'algoritmo si svolge chiaramente come si svolge eh quello che cambia è che nei passaggi della canadese ottimizzata chiaramente compariranno anche dei numeri eh decimali con le cifre decimali diverse da zero eh invece di essere soltanto numeri naturali come nei casi che abbiamo visto in precedenza e non solo quindi non solo i due algoritmi si estendono in modo eh assolutamente eh naturale rispetto all'estensione che abbiamo visto fin qui ma anche il confronto tra i due algoritmi di fatto segue eh fondamentalmente lo stesso la stessa struttura che abbiamo visto precedentemente nell'esempio che vedete qui riportato il meno quindi troviamo all'ultimo passaggio della eh divisione eh t per meno estesa si rispecchia corrisponde eh perfettamente al l'uno virgola cinque che andiamo a sottrarre all'ultimo passaggio della divisione eh canadese estesa quindi vedete che anche qui il confronto ci offre un'interpretazione dell'ultimo passaggio della t per meno estesa come appunto una lettura in decimi di quel numero quindici che sembra essere un numero naturale ma che in realtà non lo è a questo punto andiamo a vedere il caso più generale possibile quindi il caso in cui sia dividendo sia divisore sono entrambi numeri decimali con cifre decimali diverse da zero quindi hanno entrambi la virgola diciamo la scelta di per contare per esplorare questo caso particolare in cui sia il dividendo che il divisore sono numeri decimali è quella di adottare un approccio leggermente diverso a quello che abbiamo visto fino ad adesso cioè che cosa facciamo introduciamo una situazione problematica che viene introdotta proprio nelle guide per diciamo per aprire la discussione su come si può affrontare questo tipo di problema e si chiede infatti ai bambini di non interfacciarsi in questo caso con due procedure ma di esplorare possibili modi per risolvere questo particolare problema a partire da quello che conoscono a partire da quello che sanno il problema dice questo in classe terza vogliono costruire nel corridoio davanti alla loro classe una linea del tempo su cui sistemare eventi significativi che stanno studiando la maestra di terza ha a disposizione quanti fogli lunghi 0,4 metri e vorrebbe quindi utilizzare quelli per realizzare la linea del tempo proviamo ad aiutarli a progettare quanti fogli servono al minimo per costruire una linea del tempo che attraversi tutta la parete del corridoio se questa però è lunga 8,5 metri tra i vari approcci possibili per risolvere il problema la divisione canadese è ancora un'opzione possibile per esempio con un processo di questo tipo dove vedete che il divisore 0,4 diciamo permette di sottrarre nei vari passaggi degli opportuni prodotti del divisore per una potenza di 10 in modo assolutamente analogo a quanto visto precedentemente ma ci sono anche altre possibilità per esempio cambiare l'unità di misura ovvero posso pensare non di ragionare con i metri quindi 8,5 metri e 0,4 metri ma convertire entrambe le misure in una unità di misura che in qualche modo può essere più vantaggiosa per esempio se converto 8,5 metri in 85 decimetri e 0,4 metri in 4 decimetri mi posso rendere conto che per risolvere il problema posso risolvere in qualche modo passatemi il termine posso risolvere il problema in decimetri invece che risolverlo in metri e quindi a livello di operazione da eseguire mi basta eseguire la divisione 85 diviso 4 invece che la divisione 8,5 diviso 0,4 questo secondo tipo di approccio presta molto anche ad essere utilizzato come spunto di partenza per discutere con i bambini sul perché due divisioni tanto diverse apparentemente come 8,5 diviso 0,4 da un lato e 85 dall'altro siano due divisioni che poi alla fine mi danno lo stesso risultato e questo può portare appunto a ragionare con gli studenti sia sulle proprietà della divisione sia sulle possibili conversioni tra unità di misura diverse o tra ordini di grandezza diversi e infine anche sulle proprietà dei numeri rispetto alla notazione posizionale decimale quindi vedete come quest'ultimo passaggio quest'ultimo diciamo quest'ultimo step di analisi dei casi possibili di divisioni tra oltre i numeri naturali è un passaggio che può permettere all'insegnante di tirare un po' le fila di tutto il lavoro fatto sulla divisione e anche poi su numeri decimali e numeri razionali più in generale fino a questo momento e adesso apriamo una parentesi sulla scrittura del risultato che avevamo un po' accennato ma ripasso la parola al mio collega Alessandro grazie mille Silvia proprio in chiusura di questo webinar vorremmo fare di nuovo riferimento alla scrittura del risultato della divisione proprio per ricapitolare alcuni elementi che sono già emersi in webinar precedenti e che oggi a nostro avviso si sono arricchiti di ulteriori elementi di riflessione sia per gli insegnanti che possono essere elementi di riflessione anche con le bambine e i bambini dico questo perché come avete visto l'abbiamo accennato precedentemente l'abbiamo solo sfiorato ma non lo abbiamo affrontato in modo preciso e quindi vorremmo qui fare un minimo di appunto di puntualizzazione allora innanzitutto facciamo un passo indietro allora questa slide che è ripresa da una precedente presentazione chi ha avuto modo di seguire i nostri webinar magari l'ha già vista ci mostra come possiamo scrivere un'espressione matematica che indichi il risultato di una divisione nell'insieme dei numeri naturali nel caso in alto che vedete qui riportato e cerchiato con l'evidenziato con il cerchietto azzurro nel caso in alto la scrittura del simbolo uguale è usata in modo corretto se però come capita di trovare spesso guardiamo invece la scrittura nel caso in basso ci troviamo di fronte a una scrittura che è priva di senso matematico ossia qui l'uguaglianza è usato in una scritta per questo modo con il resto diverso da zero tra numeri interi e tra naturali ma vogliamo sottolineare che questo modo di scrivere la divisione può veicolare un'interpretazione del segno di uguaglianza non coerente con quello che è il significato matematico e può soprattutto portare i bambini ad avere difficoltà nei livelli scolari successivi alla scuola primaria soprattutto quando si troveranno ad affrontare elementi e dovranno apprendere elementi come le proporzioni oppure le equazioni o quando entreranno al termine della secondaria di primo grado nel mondo dell'algebra ora come avevamo già avuto modo di vedere è importantissimo trattare il simbolo di uguale in modo corretto in matematica per evitare alle bambine e bambini appunto le difficoltà di cui parlavamo prima se utilizziamo il simbolo di uguale in matematica dobbiamo tener presente che ciò che scriviamo a sinistra di uguale deve essere uguale a ciò che scriviamo a destra ossia volendo esemplificare questo con una metafora con un esempio potremmo dire che è un po' come su una bilancia a due piatti cioè sono in grado di misurare il peso di un piatto quando riesco a portarlo in equilibrio con l'altro e ancora quando possiamo per esempio leggere l'espressione in matematica sia da destra verso sinistra che da sinistra verso destra senza nessun problema ora proviamo ad entrare nella divisione 1539 diviso 24 ora se scegliamo di restare nell'insieme dei naturali non possiamo che scrivere un'espressione di questo tipo cioè 1539 uguale a 24 per 64 più 3 questo è l'unico modo di mettere appunto la bilancia in equilibrio se invece decidiamo di uscire dall'insieme dei naturali possiamo tornare ad una scrittura che ci risulta più familiare infatti come si vede possiamo scrivere 1539 diviso 24 uguale a 64 più 3 quarti infatti è sempre possibile scrivere uno dei due membri dell'uguaglianza come il quoziente scritto nella forma di numero misto in alcuni casi l'uguaglianza rimane valida anche scrivendo il quoziente in forma di numero decimale in questo caso per esempio potremmo descrivere 1539 diviso 24 uguale a 64 virgola 125 ora l'uscita dall'insieme dei naturali come abbiamo avuto modo di vedere ci consente di tornare a scritture che lo abbiamo detto ci appaiono più familiari è inutile nascondersi se osserviamo questo esempio già visto in precedenza e ci concentriamo sull'espressione che ne indica il risultato vediamo che oltre alla scrittura 2550 uguale 48 per 53 virgola 125 possiamo scrivere 2550 diviso 48 uguale 53 virgola 125 5 ma se da un lato uscire dall'insieme dei numeri naturali si apre ad un ritorno a scritture e familiari si verificano però anche situazioni che ci pongono molti altri problemi infatti se il quoziente è un numero decimale finito il processo di divisione prima o poi termina altrimenti sarà un numero decimale periodico e quindi può continuare all'infinito in entrambi i casi ci si può fermare quando si ritiene di aver trovato un numero sufficiente di cifre decimali e andando eventualmente per approssimazione ecco allora che accanto al segno di uguaglianza quando ci troviamo di fronte a divisioni che non finiscono o che decidiamo di interrompere prima di aver svuotato completamente il dividendo possiamo utilizzare il segno di approssimato a che ci restituisce comunque una scrittura matematicamente corretta un ultimo passaggio prima della conclusione se torniamo alle slide con cui abbiamo aperto questa riflessione e ci ricolleghiamo a quello quanto appena detto e la reinterpretiamo proprio a partire da scritture matematiche di divisioni che non finiscono possiamo notare che in alto abbiamo due differenti modalità di scrivere il risultato sia col segno di approssimato a che con l'uguaglianza in questo caso potrà essere l'insegnante a decidere come scrivere questa espressione se avrà o meno per esempio introdotto la simbologia specifica dei numeri periodici sotto invece abbiamo una scrittura imprecisa questo 10 diviso 2 uguale a 0,333 una scrittura imprecisa da un punto di vista matematico perché 10 terzi è un numero razionale che non può essere convertito in una frazione decimale invece 0,333 è uguale a 333 millesimi ora un'ultimissima nota ma crediamo molto importante per continuare per questo percorso di approfondimento anche sull'uso dei segni matematici in alcuni libri di testo addirittura è possibile trovare espressioni del tipo 10 diviso 3 uguale 0,333 puntini puntini ma questa scrittura si presta anch'essa ad ambiguità infatti i puntini indicano in genere solo che la cifra 3 non è l'ultima cifra decimale del numero considerato non che il numero decimale sia periodico quindi con questa scrittura non stiamo chiarendo a quale numero decimale tra quelli che cominciano con 0,333 corrisponde il quoziente della divisione 10 diviso 3 e con questo con quest'ultima riflessione vi ringraziamo tantissimo e ripasso la parola a Ciro Minichini e ai colleghi ovviamente penso per lo spazio delle domande che credo sia più che interessante poi di dibattere con voi grazie grazie Alessandro grazie Silvia grazie Anna e grazie tutte le persone che hanno voluto intervenire ponendo una serie di domande proviamo a sintetizzarne qualcuna sono molte toccheremo pochi punti perché abbiamo abbiamo un po' più di una ventina di minuti a disposizione allora una questione che vi sottopongo un po' una macro questione riguarda riguarda un po' l'interazione tra il modo classico e il metodo canadese vi leggo un paio di domande allora io in questa classe terza ho presentato le divisioni esclusivamente con il metodo canadese e vorrei evitare la presentazione con il metodo classico ma poi mi chiedo se alle medie i professori chiederanno lo svolgimento classico insieme a questa vi aggiungo altre questioni che riguardano fanno un po' il paio con questa che riguardano un po' i rischi e le difficoltà di provare a del provare a cominciare a lavorare con il lavoro che avete presentato in situazioni che invece sono già avviate al sono state avviate a lavorare in un modo più tradizionale vi lascio questa queste questioni e poi dopo ve ne sottopongo un'altra che è collegata io posso cominciare riprendendo qualcosa che ho cercato di scrivere un po' al volo in chat ho cercato diciamo durante gli interventi di rispondere a quello che potevo e allora è molto interessante sono interessanti diciamo queste domande e come ho scritto nella chat trovate un link a un intervento secondo me molto interessante di Federica Poli che è un'insegnante di scuola secondaria di primo grado nella sezione degli aperi ARDM del sito dell'ARDM che è l'associazione italiana di ricerca in didattica della matematica e ve la sto citando perché alle medie diciamo avete citato voi un pochino le medie ma anche alle medie siamo esattamente nella situazione in cui gli studenti arrivano già avendo affrontato degli algoritmi di divisione e in questo caso con Federica avevamo deciso di cercare di lavorare sulla divisione perché nonostante diciamo i bimbi fossero stati ragazzi esposti tantissimi sbagliavano l'algoritmo e chiaramente non ne controllavano il senso e i significati e allora per lavorare su questo Federica li parla della sperimentazione che abbiamo fatto e ha un pochino rovesciato la cosa quindi aveva già l'algoritmo diciamo opaco e ha introdotto l'algoritmo canadese c'è stata un po' di resistenza in realtà questo lavoro lei l'ha ripetuto per molti anni e ormai è diventato diciamo parte della sua pratica didattica regolare ci si è trovata molto molto bene perché vede che con la divisione canadese che i ragazzi accettano abbastanza di buon grado proprio perché si sentono di sbagliare spesso comunque di non dominare pienamente diciamo molti di loro altri algoritmi che si portano dietro da prima allora lei è rimasta attaccata a questo a questo modo di lavorare perché usa proprio l'algoritmo canadese per aprire da apri scatole esattamente come dicevano Alessandro e Silvia procedure classiche che peraltro nella sua scuola non è nemmeno quella che troviamo nei libri di testo italiane è una variante diciamo che si usa nelle scuole inglesi ma tutti questi algoritmi opachi lavorano nello stesso modo sfruttando la notazione posizionale decimale quindi in questo senso sì secondo noi ha molto senso anche in casi in cui ci sia stato un lavoro tradizionale precedente richiede tempo e ci può essere una fase di rifiuto da parte soprattutto dei bambini ma anche dei genitori bambini perché perché dicono ma se io già so fare la divisione già la so fare che cosa mi serve farne un'altra allora a questo rispondiamo dicendo in realtà non è che ti serve saperne fare un'altra per ottenere risultati che in questo caso sono quoziente e il resto ma per capire perché funziona quindi la domanda è un'altra si sposta quindi l'attenzione dal prodotto al processo e ai significati diciamo dietro al processo il problema dei genitori che poi riaffrontiamo è molto 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 delicato e questo però vale in generale non solo per l'ambito delle divisioni quando si decide di lavorare con per contare o con diciamo proposte didattiche a volte molto discostanti da pratiche precedenti magari che i genitori o i nonni si ricordano c'è bisogno di parlare di parlare esplicitamente con le famiglie noi consigliamo un incontro all'inizio dell'anno ed eventualmente un altro durante l'anno proprio per preparare le famiglie al fatto di non saper fare tutto quello che i bambini porteranno a casa perché appunto stanno cambiando le pratiche didattiche e anche il motivo per cui vengono proposte alcune cose sta cambiando nel tempo ultimissima cosa nel caso degli algoritmi il motivo principale per cui lavoriamo in questo modo non è per ottenere risultati non ha senso secondo noi insegnare algoritmi di calcolo a scuola per ottenere risultati diciamo risultati che una calcolatrice un computer un telefonino ci può fornire ma lo facciamo invece per capire meglio le operazioni che sono in gioco per sviluppare abilità di stima e per arrivare ai significati matematici in questo caso nel caso degli algoritmi diciamo uno principale che spesso rimane nascosto è proprio la notazione posizionale decimale quindi il valore delle cifre cosa vogliono dire le cifre e come cambia diciamo il senso che noi l'interpretazione che diamo ad ogni cifra rispetto alle altre con questi algoritmi in realtà stiamo cambiando unità di misura ordine di grandezza come diceva Silvia più volte durante l'algoritmo quindi per capirli è parecchio difficile mentre la canadese ci tiene tutto in unità ecco perché uno dei motivi diciamo per cui riusciamo a mantenere molto meglio il significato su quella quindi con calma diciamo andrebbe spiegato tutto questo ai genitori succedono cose simili anche in altre materie per esempio per l'italiano sto vedendo che vengono cambiate sono state cambiate vengono cambiate pratiche didattiche frequentemente per qualche motivo forse c'è un po' più disponibilità da parte delle famiglie a accettare diciamo varianti in altre materie rispetto alla matematica e la mia ipotesi è perché moltissime famiglie non hanno avuto la possibilità di costruire loro stessi diciamo i significati quindi magari si ricordano certi algoritmi perché li hanno fatti per anni anni e anni ma in realtà non saprebbero spiegare perché funzionano così e va bene mi fermo qui perché forse anche Alessandro e Silvia vogliono aggiungere parlerei ora io quindi mi taccio davvero non so se Alessandro e Silvia vogliono aggiungere qualcosa però sottolineo che Anna ha già diciamo avviato risposto a un'altra questione che riguardava appunto il coinvolgimento dei genitori e la necessità di tranquillizzare le famiglie rispetto al fatto che si possono avviare in classe delle pratiche diciamo non usuali non riconosciute come ordinarie quindi mi sembra che anche a questa questione Anna abbia risposto se su questi punti ne Silvia e Alessandro vogliono dire qualcosa ve ne rilancio un altro che mi pare che pure Anna abbia iniziato a toccare però ve lo rilancio un po' più esplicitamente in un intervento in chat c'è stato c'è stato un suggerimento che andava nella direzione secondo la quale i due algoritmi che avete mostrato possono essere usati entrambi facendo in modo che uno funga da prova per l'altro quindi diciamo vorrei chiedervi un commento una riflessione su questa possibilità o quanto è in linea con le intenzioni che stanno dietro alla proposta che state portando e ne approfitto anche per sottoporvi un'altra questione si chiede l'algoritmo classico è stato affrontato principalmente per una serie di criticità ma nella vostra proposta si intende escluderlo escluderne l'uso ve la lancio perché è una domanda che sta in chat e quindi mi sembra che le questioni possono essere trattate insieme provo a dico alcune cose su questo allora parto da una riflessione che è quella del discorso della prova come ti accennavo già in chat e come Anna credo abbia giustamente ribadito prima noi non la utilizziamo per il risultato perché cioè nelle indicazioni nazionali è espressamente detto che i bambini devono saper ricorrere alla calcolatrice quando necessario il che significa che se diamo delle divisioni con tre decimali al dividendo quattro decimali il divisore roba di questo tipo cioè probabilmente dobbiamo farci delle domande come insegnanti e lo dico da ex insegnante e futuro insegnante proprio quindi dobbiamo essere noi che ci facciamo le domande se ha senso fare questo tipo di lavoro uno cioè quindi il discorso della sinergia è un discorso come abbiamo cercato di mostrare sui significati cioè che cosa si nasconde dietro perché funzionano la domanda è perché funzionano questi questi oggetti strani che sono gli algoritmi che sono stati elaborati storicamente nel corso di secoli in alcuni casi e quindi hanno tutta una loro storia che si può recuperare comunque questo è un primo elemento sul discorso della prova il secondo elemento prova a rispondere no non abbiamo assolutamente escluso l'algoritmo in colonna standard semplicemente abbiamo cercato di mostrare e questo l'abbiamo fatto anche con le moltiplicazioni che esistono altri algoritmi oltre quelli standard che conosciamo che vengono normalmente insegnati all'interno della scuola perché questo è molto importante per riflettere sulla possibilità di scoprire altri modi di affrontare e di utilizzare un algoritmo le sinergie di algoritmi per capire come funzionano i meccanismi ultimo elemento prima citavo le indicazioni nazionali le indicazioni nazionali perché tu prima giustamente hai fatto riferimento interessante ma se io poi insegno alla scuola primaria la canadese poi alla scuola secondaria di primo grado voglio sapere la colonna standard allora esistono le indicazioni nazionali dal 2012 ribadite nel 2018 mai buttate a mare fino adesso le indicazioni nazionali come tutti quanti qui sappiamo vanno dalla infanzia alla secondaria di primo grado cosa vuol dire questo? che la scuola è un'unica grande struttura verticalizzata quindi bisogna che noi impariamo con i dirigenti degli istituti comprensivi con io lo dico spesso l'ho detto anche a Firenze all'ultimo didacta degli insegnanti che mi chiedevano questa cosa dobbiamo costruire ponti fra le varie scuole cosa che facciamo molto fatica a fare e che si fa molto fatica a fare quindi io personalmente mi sento di dire a tutti i colleghi e le colleghe cioè cerchiamo di costruire questi ponti fra le varie scuole cercando di spiegarci prima Anna faceva l'esempio dei genitori laboratori per esempio con i genitori alla sera sono bellissimi per poter far vedere come funzionano degli algoritmi con i bambini che spiegano ai genitori come funzionano è una cosa veramente interessante alcuni insegnanti le fanno abitualmente all'interno delle ore canoniche non fanno ore in più però credo che questa costruzione di punti sia necessaria e qui mi taccio per non portare via troppo tempo io volevo riprendere una cosa velocissima poi so che c'è Silvia che aveva altre cose bellissime da aggiungere perché a una domanda diciamo a cui non avevo risposto era di un insegnante che chiedeva della canadese e basta mi sembra che avesse detto io ho forse la prima che ha detto Ciro ho introdotto la canadese e basta ma come faccio se poi alle medie diciamo i miei studenti non sono preparati allora diciamo un po' risposta Alessandro diciamo che da per legge il tuo l'hai fatto però potrebbe essere una buona cosa introdurre un altro degli algoritmi diciamo opachi perché abbiamo visto che la canadese invece è quello dove in cui i significati restano più visibili proprio per capire ancora meglio diciamo da un lato la canadese ma anche per fare il gioco dei matematici cioè capire perché certe cose un po' magiche funzionano quindi può essere una bella attività matematica può aiutare anche gli studenti a prepararsi diciamo per una diciamo proposta più classica che potrebbe essere proposta loro alle medie come dicevo se invece trovano alle medie di un insegnante come Federica Poli si troveranno comunque a lavorare con più di un algoritmo ora ancora purtroppo i casi sono pochi ma diciamo il mio suggerimento sarebbe esporli se possibile proprio per dare degli strumenti in più non tanto per conoscere un altro algoritmo diciamo e saper fare quello ma per rendersi conto che con le proposte didattiche che hanno fatto con lei alla scuola primaria in realtà hanno gli strumenti per capire il perché di tante cose di tante procedure oscure che potrebbero invece trovarsi insomma a dover cercare di capire quindi proprio per dare un senso più più corretto di quello che è la matematica e il mestiere dei matematici grazie Anna scusami Silvia prima di lasciarti la parola voglio voglio dire a una collega che ha che ha chiesto diciamo la parola perché c'ha un'idea per visualizzare alcune operazioni che in questo momento ovviamente per ovvi motivi non è possibile ma suggerirei di mettersi in contatto direttamente con con il gruppo che ha presentato questa questo questo lavoro scusa Alessandro non volevi parlare no no vai vai scusa Silvia scusa che ti ho interrotto no no nessun nessun problema diciamo che sicuramente ecco questo discorso della visualizzazione non siamo entrati nello specifico qui perché era stato fatto tutto un lavoro in classe quarta su come visualizzare i passaggi della divisione t per meno attraverso un processo distributivo quindi rimandiamo ai webinar precedenti per questioni più approfondite sul sito di per contare trovate anche un intervento di due ore che abbiamo fatto al convegno Endimatica io e Alessandro nel 2020 che era proprio tutto incentrato sulla costruzione della divisione quindi anche quella è una risorsa a cui rimandiamo proprio per quanto riguarda la visualizzazione e io volevo volevo aggiungere un commento che riprende un po' una prospettiva di senso e perché questo si aggancia proprio perfettamente alla prospettiva che hanno cercato di evidenziare sia Anna sia Alessandro richiamo un attimo alla vostra attenzione i temi che abbiamo letto che Anna ha letto inizialmente che erano stati scritti da bambini di quarta o quinta elementare insomma gli ultimi anni delle scuole elementari e volevo porre l'attenzione sul fatto ci sono in realtà ci sono degli elaborati dove veramente emerge questo impatto molto forte che ha l'algoritmo di divisione che a volte genera veramente un'emozione di rifiuto da parte degli studenti e credo che questo sia nell'esperienza un po' di tutti voi come lo è nella nostra e ecco volevo ricollegarmi a quei temi perché si vede da tantissime ricerche sia a livello italiano che a livello internazionale che spesso e volentieri questi rifiuti che si generano proprio su questi contenuti cioè sui contenuti della scuola primaria di fatto possono impattare per tutta poi la vita futura e l'educazione matematica futura dello studente ci sono studentesse di scienze della formazione primaria che quindi devono andare domani a fare le insegnanti di scuola primaria che sono assolutamente passatemi il termine un po' traumatizzate dalla divisione in colonna che sono assolutamente terrorizzate tanto che qualcuno va a scuola chiedendo al dirigente mi faccia insegnare tutto ma non matematica ecco secondo me questa cosa secondo noi rende bene diciamo la misura per cui secondo noi è importantissimo spostare l'attenzione da come svolgo l'algoritmo a perché perché la questione non rimanga tanto se io sono un bravo esecutore quindi se so fare bene le divisioni che mi hanno insegnato oppure no ma diventa sono in grado di capire cosa c'è dietro a questi passaggi sono in grado di interpretare cioè di di leggere quell'algoritmo in base ai significati matematici che ci stanno dietro sono in grado di dare un senso a quell'algoritmo perché il punto è che a lungo andare l'algoritmo io me lo dimentico la divisione in colonna fondamentalmente levato pochissimi casi comunque diciamo nella stragrande maggioranza delle persone una volta che arrivo magari alla secondaria di secondo grado o all'università non la userò mai più ok o comunque molto raramente e non usandola non me la ricordo ok quindi a lungo termine quello che mi che mi rimarrà non sarà l'algoritmo in quanto tale non sarà la procedura sarà però quello che mi ha permesso di capire quell'algoritmo e lavorando sui significati è diciamo ci spostiamo diciamo in qualche modo stiamo facendo un investimento sul fatto che a lungo termine a questi studenti rimanga un una padronanza più chiara dei significati matematici che abbiamo descritto quindi le proprietà dell'operazione cosa vuol dire dividere cosa vuol dire distribuire qual è la notazione posizionale decimale che sta dietro alla scrittura del numero decimale in quella forma lì la relazione che c'è fra numero decimale e decimale tutti questi sono tasselli importantissimi per l'educazione matematica che viene dopo che prescindono dal fatto che uno sappia svolgere l'algoritmo o meno ma che in qualche modo per noi l'algoritmo è un'occasione per approfondire e quindi noi leggiamo l'insegnamento degli algoritmi in questa prospettiva arrivo subito Ciro finisco aggiungo solo proprio una cosa che è bellissima e qui vi invito a andare a vedere l'intervento che abbiamo fatto per l'Accademia dei Lincei sempre sugli algoritmi io Alessandro e Federica Poli che trovate sempre fra le risorse di per contare dove Federica racconta alla fine del suo intervento come i suoi ragazzi di scuola secondaria alla fine di tutto questo lavoro sulle divisioni hanno detto una cosa del tipo voglio tornare dalla mia insegnante di scuola primaria e dirgli che adesso io so perché funziona quindi questa sensazione di soddisfazione i ragazzi la toccano con mano ed è preziosissima perché è quella che a lungo termine gli rimarrà l'algoritmo magari se lo scordano ok e le divisioni non le faranno mai correttamente ma adesso siamo pieni di strumenti che ci permettono di farle correttamente molto meglio di quanto non possiamo fare noi con carta e penna però quella sensazione di soddisfazione quella sensazione di padronanza della matematica è preziosissima e a lungo termine resta molto di più prego Siro grazie Silvia non ti volevo mettere fretta ma è finito il nostro tempo vorrei chiudere soltanto riportando un'osservazione di una collega che restituisce un po' poi il senso e anche il motivo la razza in cui è partito questo progetto e si sviluppa la rileggo proprio testualmente così come è stata postata io ho proposto la divisione canadese perché in classe avevo diversi alunni con difficoltà di apprendimento in realtà ne ha beneficiato tutta la classe che è un po' anche la storia di questo progetto e quindi mi sembrava come dire rilevante raccoglierla perché è ancora viva diciamo il motivo il modo in cui è nato il progetto resta ancora vivo nel modo in cui si sviluppa nei diversi posti in cui viene portato avanti io se non avete nulla da aggiungere ringrazierei tutti e tutti vi ricordo che l'attestato arriverà automaticamente fra entro un paio di settimane c'è una e saluto tutti e tutti a meno che Paola non voglia aggiungere qualche cosa no no volevo solamente dire siccome prima si parlava di mettersi in contatto con noi in effetti l'unico contatto è il sito di percontare che ci fa arrivare le richieste quindi ho il sito di percontare poi faccio da tramite oppure il mio indirizzo email che è pdpalermo angelucci chioccelaspi.it come ho copiato nella chat grazie a tutti grazie a tutte e tutte le persone intervenute i relatori le relatrici e al prossimo appuntamento al prossimo appuntamento grazie grazie arrivederci buona serata buona serata buona serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti